Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di nuovi scarpa mescalito TRK Planet. Io lo definirei uno scarpone d'alpinismo mancato e adesso vi spiego il perché all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dalle caratteristiche di questo mescalito TRK Planet. Per quanto riguarda la sola troviamo una Vibram EcoStep Evo, un intersole in più a due densità e soprattutto una tomaia in tessuto per spare. Il tutto per peso di 650 grammi nella taglia 42. E adesso come abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e i difetti. Iniziamo come al solito dalla suola di questi mescalito. Come vi dicevo una suola Vibram modello EcoStep Evo. È un modello di suola abbastanza nuovo di Vibram, costruito apposta per degli scarponi diciamo d'alta quota. È una mescola soprattutto che mi ha convinto ma non tantissimo. Bene tutto quello che è il sentiero facile, single track, la strada bianca, nessun problema. Fango ancora ancora si difende. Sulla roccia che ho visto che ha un po' di criticità, dipende dal tipo di roccia che troviamo. Del tipo su del granito gli sono andato abbastanza bene, ma su della roccia un pochino più morenica gli sono scivolato abbastanza. Dipende davvero il tipo di roccia che abbiamo sotto il piede. Quindi fidatevi ma fino a un certo punto di questa suola. Fate i vostri test, è sicuramente però una suola abbastanza dura. Quindi il grip proprio su roccia dipende proprio da quello che troviamo sotto i piedi. Essendo però una suola abbastanza dura vi assicuro che è davvero durevole. Io l'ho utilizzata per davvero tanti chilometri, è ancora praticamente nuova. È sicuramente una suola che durerà nel tempo. E soprattutto una volta finita, volendo, si può fare anche risolare lo scarpone. Per quanto riguarda invece l'intersuola, come dicevo, a doppia densità. Troviamo una parte più a bassa densità sotto la pianta del piede per aiutarci con un po' di cushioning per arrivare a fine giornata senza avere il piede particolarmente distrutto. E poi invece una parte dell'intersuola ad alta densità nella parte del tallone per garantirci stabilità. Diciamo che messi insieme alla fine fanno un ottimo connubio. Uno scarpone sicuramente abbastanza facile da portare, però quello che va un po' a stancarci è la sua rigidità. Vi dicevo, uno scarpone d'alpinismo mancato perché è veramente rigido. Cioè, questo tipo di scarpone, avesse avuto la tacca nella parte posteriore dell'intersuola, l'avreste potuto ramponare senza nessun problema. La tacca manca, comunque lo si può ramponare volendo con un rampone universale, però vi assicuro che è davvero molto rigido e naturalmente questo ha i suoi pro e i suoi contro. Per quanto riguarda l'atomaia, iniziando dal puntale, beh, troviamo un puntale che è rigidissimo. Cioè, ragazzi, con un puntale del genere prendete a calci la roccia e non sentite assolutamente nulla. Quindi un puntale davvero molto molto strutturato. Per quanto riguarda l'atomaia, come dicevo, un perspeir che mi ha convinto sì, mi ha convinto no. Nel senso che se lo utilizziamo in un posti abbastanza freschi, ci sta nessun problema. Per renderci, ad esempio, l'alta montagna. Se lo utilizziamo invece più in pianura, ecco lì invece suderemo veramente, veramente tanto. Però diciamo che alla fine, sento uno scarpone pensato per l'alta montagna, ci sta. Diciamo che la traspirità abbastanza nella dorma non eccelle sicuramente per la traspirabilità. Però questa pelle per spare, davvero, io l'ho maltrattata contro tantissime rocce, ci ho fatto tantissimo sfasciume, è ancora praticamente nuova. Quindi sicuramente in durabilità questo scarpone lì eccelle. E infine per quanto riguarda l'impermeabilità, troviamo anche la membrana in Gore-Tex che non dà nessun problema per quanto riguarda l'impermeabilità. Per quanto riguarda tallone e collare del piede, allora tallone naturalmente alto, chiude molto bene la nostra caviglia, un tallone comunque abbastanza morbido. Io non ho avuto problemi di vesciche, di sfregamenti, di rossori, niente. Soprattutto la parte superiore del piede, il collare, bello imbottito, davvero il piede all'interno ci sta molto bene, non ho avuto nessun dolore, nessun rossore, anche dopo da tante tante ore di utilizzo non ho avuto problemi. Per quanto riguarda invece linguetta e lacci, allora linguetta molto classica, imbottita, nulla da dire. Lacci invece che sono fatti molto bene, l'allacciatura arriva quasi in punta, quindi si riesce a stringere molto molto bene. Diciamo che è un'allacciatura comunque molto simile più a una scarpa magari d'avvicinamento rispetto a uno scarpone d'alta montagna, quindi sicuramente molto apprezzata un'allacciatura di questo tipo. Infine per quanto riguarda la soletta, classica soletta di scarpa, io mi ci sono trovato bene, nessun problema. È sostituibile se volete cambiarla, però io andrei avanti a utilizzare questa, perché comunque mi ci sono trovato bene. Per chi consiglia questo scarpone, allora secondo me questo scarpone è ideale per persone che hanno già una buona esperienza in montagna. Come dicevo troviamo un'intersuola abbastanza rigido, quindi bisogna essere capaci a portare un tipo di scarpone come questo, bisogna riuscire a camminare bene per evitare che il piede si stanchi troppo. Diciamo che è sicuramente uno scarpone per persone medio evolute. E naturalmente anche per quanto riguarda il terreno su cui va utilizzato, anche lì alta montagna. Alta montagna, quindi sfasciume, anche trekking con zaini molto pesanti, vie ferrate, sicuramente non del trekking semplice, dove potrebbe andare un principiante. Comunque il mio consiglio anche per quanto riguarda l'atomaia, quello di utilizzarlo magari dai 2500 metri di quota in su. Dato ciò arriviamo alle conclusioni per questo mescalito TRK Planet. Viene venduto a un prezzo di 270 euro ufficiale scarpa online, si trova attorno ai 220, ve lo consiglio, ni, ni. Diciamo che secondo me, a mio parere, ci sta, perché comunque è uno scarpone che ho utilizzato, non ha nessun problema, davvero possiamo portarlo avanti tantissimo negli anni, e durerà. L'unica cosa che mi viene un po' il dubbio è, a quanto ha senso comprare questo tipo di scarpone? Forse è meglio investire di più magari su una linea ribelle, per esempio, che almeno è ramponabile, oppure se dobbiamo fare il trekking più semplice su The Rush. Secondo me è come linea proprio di scarponi, è un po' limitante. Avesse avuto l'attacca posteriore, sicuramente sarebbe stato molto meglio, molto più utilizzabile. Così lo vedo veramente molto limitato nell'utilizzo, e sì, se volete acquistarlo, sicuramente farete un ottimo affare. L'unica cosa, come dicevo, è molto limitato negli ambiti in cui lo si può andare a utilizzare. Dato ciò, ragazzi, una speranza sia stato esaurante e sostivo anche per questa recensione, vi ringrazio la guardata, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!